Si lavora dunque per una soluzione che comunque esclude la possibilità di ripristinare il vecchio sistema di gestione ma a queste persone attualmente interessa solo riprendere a lavorare. Siete appena scesi dal tetto avete ricevuto garanzie in questo senso? Proprio nessun tipo di garanzia perché dicono che ci portano a parlare dal sindaco, segretario, da chi di dove. Ma vediamo un attimino. Io non volevo scendere. I ragazzi però si sono messi in paura. Giustamente, se ne sono andate. Ci hanno promesso che ci portavano a parlare dal comandante, dal sindaco, da chi di dove. Poi vediamo un attimino la situazione. Cosa vi ha detto il comandante? Non lo so. Ha parlato con voi? Non ho capito niente, Anna, perché dicono tante cose che purtroppo tu non puoi credere più a nessuno. Non credi più a nessuno. Voi cosa chiedete a famigliore? Il lavoro, solo qui. Il lavoro, niente più. La palla passa al settore politiche e sociali che provvederà già nei prossimi giorni a tenere colloqui individuali con gli assistenti sociali per l'individuazione di quei soggetti svantaggiati che necessitano assolutamente di un rinserimento. Io non ho avuto modo di parlare con il comandante Arvonio. Io ho parlato con i ragazzi che sono da tanti mesi che vengono qui da noi per la problematica dei parcheggi. Ora mi hanno chiesto di accompagnarli giù al comando per parlare con il comandante quindi sto andando con loro sul posto. Perché non è stato possibile per queste persone parlare con il sindaco? Io vi devo dire la verità, appena sono arrivata mi hanno detto che erano sul tetto quindi sono andata sul tetto, non ho fatto telefonate, non ho chiesto se c'erano cose nel frattempo che stavano facendo riunioni o quant'altro, quindi non saprei rispondere. A noi una delibera di indirizzo, voi mi sembra che già lo sapete, è stata fatta. Quindi noi come poi da parte nostra dei servizi sociali abbiamo fatto anche una serie di schede perché abbiamo fatto la presa in carico di tutte quelle che erano le persone che avevano lavorato nelle cooperative come parcheggiatori e l'abbiamo trasmessa al comandante, giù al comando vigili. Quindi ora devono essere ascoltati per vedere la fattibilità di quelle che sono le attività da svolgere. Non sarà possibile sistemare tutti però? Questo non ve lo so dire.